Italia 3, Francia, Guatemala, filofono. Ok, 59002, VN5, VN2 Italia. Ciao Cristian, ben sentito, Italia, filofono 1, Charlie, chilo, november, C3, Milano, ecco, chilo, guarda. Perfetto Cristian, è sempre un piacere, arrivi bene, il segnale reale 5, 5, 5, 6, arrivi forte. Grazie, ti saluto, buon divertimento, magari poi domani mattina ci si sente per i 6 metri. Ciao, ciao, a presto, il K2H, K3. Buon wirale 4, 5 lega, cheia dalla pasta premia cheiana Piela, original 2, 0, 11, 10, 10, 11, 10, 11, 12, 1, 0, 14, 15, 12, 12, 13, 14, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 16, 15, 15, 16, 14, 15, 16, 16, Mutta bella ин west,io, 15, 16, 16, 16, 18, 18, 18, 19, 21. ahltisch, 17, 20, 21, 20, 21, 21, 22, 22, 21, 22, 22, 22, 23, 23, 23, 23, 21, 22, 23, 24, 24. Roger Roger su 5.7, grazie Cristian per l'Oscar, buon conto, grazie per la sua partecipazione, ciao. Ecco qua, ciao, ciao, ciao. Radio, 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 case 40. Cipre 9, Cipre 0, 1, 5, 15. Giulie, Melsi, 4, 6, November. Alpha, 4, 6, November, America, Kappa. Liemia, 5, 5, 4, 1, 2, 1, 2. Avanzo ancora Cisian, per l'autore, l'autore, tutto ok, ciao Cristian. Alla prossima, ciao, grazie Coventus. Ok, ciao, il progetto è tu, il prefetto, però avanti, ancora, ma l'Italia, 5-3, alfa, giusto, novembre, ora troverai. Italia S3-1, c'ha un infilo novembre, molto bene, molto bene, ci passano 5-9, 0-34, Cristian, arrivi bene, 5-9, 0-34, giusto novembre, 4-4, Franca, Franca, Cristian, avanti. Italia S3-1, c'ha un infilo, per l'Italia, 5-4, Franca, 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 Franca Ah, prezi 4, 5, bravo, 4, 5, bravo, 4, 4, 5, bravo, 4, 8, 9? Il PN4, 5, 5, 4, 5, 5, 5, 8! E ancora si tratta di più andativo, questo più volere! Quali, 3, 2, 3, 2, 3, 4, 8! Dovamo forzi ad questa cima! 1,3, 4, 4, 4, 5, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 8, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 10, 11, 11, 12, 12, 12, 13, 11, 12, 13, 12, 13, 12, 13, 12, 13, 14, 14, 14, 14, 15, 15. Grazie a tutti.